come si può ben vedere 1, 2, 3, 4 e lo spazio numero 5 è il nostro 6, 7 e 8 e non ci siamo noi come dice il rappresentante della Lega non ci siamo noi c'è Forza Italia poi la Lega sta a 9 qui c'è Di Brino poi qui c'è Roberti e qui c'è il Movimento 5 Stelle andiamo al tabellone delle europee ok primo posto vuoto secondo vuoto terzo vuoto quarto quadricello quinto Europa sesto settimo e ottavo ci siamo noi sul manifesto della sinistra che tra l'altro il manifesto della sinistra non ha volto però sul manifesto della sinistra da quello che vedo prima ci avevano attaccato un altro manifesto sopra di una biondina che adesso qui non capisco di che partito è ma secondo me questo è un manifesto della Lega che avevano attaccato sopra quello della sinistra e adesso rivendicano che noi abbiamo attaccato su di loro quando loro avevano attaccato prima su di noi cioè sulla sinistra europea incredibile incredibile ragazzi grazie 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 a tutti.